Per scaricare invece l'acqua grigia, quindi il serbatoio che sta sotto il furgone che raccoglie, quindi l'acqua del rubinetto e della doccia, abbiamo qui una valvola di scarico. Quindi qua abbiamo la maniglia, questa maniglia, tirando, apre il bocchettone del serbatoio, tutta l'acqua scende, chiaramente dobbiamo essere posizionati sopra a uno scarico per i camper, e dopodiché rispingendo si chiude e siamo pronti per ripartire.